meno male andiamo a fare altre cose che tipo di caso dipende da quella che chiamata mi danno trasporto una persona arrestata no bene bello vediamo che macchina posso portare se lo faccio le bugatti il colore nuovo caso di emergenza grave arrivo vai vai buona 700 metri sono a 50 mattini l'unciglione l'unciglio lui ancora questo uccello di mondo ti ho conosciuto a cosa ma volevi solo è il mio boh ho visto ho ucciso una persona mi sento fiero minigone ce l'ho messo qua ce l'ho messo la smissione da nana tu lo capo ce l'ho messo puttana vacca vacca ma ho che incidente qua ma ho che è un bato di soldi ma ho aspetta va che qua ce ne ho uno che sta morendo non so no vanno soccosi infatti lo sto soccorrendo ah è una donna come meglio respirazione bocca a bocca sto facendo maiale bello lo c'è intera e vacca bianca spacca sta bugatti boh poi io non gli farei su comincia a fare un po' di domanda alla gente ho un personaggio ho bisogno di un'ambulanza non hanno visto un cazzo queste due terra impossibile fatto una vista qualcosa una persona a terra si è mossa e ha attraversato la strada e lei l'ha tirata sotto beh signora lei è stata molto furba anche questa persona ha visto questa persona qui correre in mezzo la strada per essere in vista anche da lei quindi ha fatto la doppia qua no no me l'ha detto lei ok me l'ha appena confessato tutto in regola tranne l'assicurazione facciamo una bella molto eh mi dispiace l'assicurazione importante signora eh so much money sono 250 paga zio ok sarebbe il ritiro del mezzo senza rassicurazione quindi almeno da quel che so della mia esperienza ah beh perchè tu hai esperienze e sta qua e vediamo se è derogato vediamo la carta di identità Questa ah 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 ah, ah, ah ah! brutta cosa questa carta di identità scaluta l'assicurazione non valida dai 70 ai 100 dollari per la carta di identità e per l'assicurazione di 150 cento mi dispiace signor sono in giro senza le cose giuste prossima volta sta a casa c'è una giovane mi sono sempre da ragionare lo sbito che potrei potrei anche chiudere un occhio ma poi la pochiera presto perché se non bastano hai chiesto di chiudere un occhio anche con l'avete fatto e se non lo facevi quindi dici che aiutti di ricco io qui di un altro chiudere un occhio ma con l'altro io ti guardo qui c'è il tuo alzito faccio il marco toccato con gli occhi un po' non so come fa il colore della bugatti con me con la nera nero nero non c'è gianni mi ha detto alla fine nero alla fine nero a marcella razzista a pericoli non è vero hai detto si la volta registrato il nome è marcello cavalli se volete bannarlo non è vero qualche la maggior parte del mio pubblico anche gente di colore quindi occhio mi hanno detto niente non è vero se per noi niente c'è la registrazione che ti dicevi che che ti è fermato non è vero il mercato ma non voglio il tuo cazzo di enti morti il rischio anche ti devi dalle palle ti devi dai coi chi devi dai ti devi levare però ma se gli sparo in macchina ma che succede se sparo in aria no non voglio sparare in aria oh come non penso cioè io finché con la gente non si muove io non riesco ad andare a casa e lui è il tuo orario no è passato e dispiace godo nel camminaccio no 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 lei non ha visto niente io lo resterai non ha fatto un incidente davanti a me lei ha visto una macchina che gli viene contro ma quando sono arrivato lei era già ferma signora mi sta raccontando un po' di cazzata mi sa io lo resterai anche lei vediamo lui ubriaco ecco ecco un motivo in più allora aspetta io ho parlato con tutti adesso vado a parlare con la meno credibile di tutti che è l'ultimo che mi sta venendo voglio di giocare solo per la resta della gente ma io mi arresto molta gente ecco l'obiettivo però dovresti vedere come al gioco e' mai che la devo esistare costa eh non è che ah costa allora non li sto proprio eh no io l'ho preso gratis allora giudicita io l'ho preso gratis per fortuna assicurazioni si assicurazioni e' nervosa c'è la cocaina allora l'idea è scaduto dai 70 ai 150 dollari ma anche il libretto della macchina è andato sono dai 50 ai 250 dollari eh no che non va bene adesso però devo per cui si parla secondo me c'è un'arma legale 100 100 che c'è un coltello ah ah al processo delle armi dai si cazzo beh se questo è il lustre su guardate tu è una cazzata no no sull'id non menti scuro io non mi fidare ah una pistola vabbè ci sta è sua ubriaca nemmeno pulita e' noto male controlliamo la id e poi andiamo dall'ultima persona che è la più bastardo vabbè sta qua ha la fedina pulita lascia stare questa l'hanno la tocco nel me oh lui si che mi piace già c'è un po' però voglio vedere come ok lui è pulito visto ne ho comprati lui è pulito nel senso fedina pedale penale e' id non è drogato sarò ubriaco è scappato che glieli puttano spagli non puoi spagli ma vai ma lascia andare no no intanto pure guarda sai cosa me ne fottò il cazzo di tutto e lo seguo ti ho detto come insegna boh io gli ho ordinato di fermarsi se non si ferma gli spari giusto e poi c'è così con la gente sai cosa ha detto mio cugino no non posso dirlo non lo dici te lo scrivo ho visto il video con l'ambo sì ma anche non è vero non è quello punto ok 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 mio cugino no mi sarà detto ritorneremo ok 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 la prima c'è ma quello marcello mince ma se io dico l'incestito che si usa in discoteca guarda che c'è una puttana che scappa non mi vuoi ti ordino di fermarti presa e buttata da terra puttana l'arresto per fuga l'opera non ho perso le tracce c'è davanti il detenuto c'è un gioco non so ho visto una donna che correva